Il mio fidanzato mi ha uccisa, sono Fabiana Luzzi. Avevo solo 16 anni quando tutto è successo. Ero una ragazza vivace, con il sogno di diventare una ballerina. Capelli scuri, occhi che sorridevano sempre. La mia vita ruotava intorno a Davide, il mio fidanzato di 17 anni. Ero profondamente innamorata di lui, ma il nostro amore era fatto di sopraffazione e violenza. Mi umiliava, mi minacciava, mi picchiava. Una mattina di fine maggio del 2013. Ho detto di no a Davide. Era difficile far prevalere la mia volontà sulla sua. Quel rifiuto lo ha mandato su tutte le furie. Ha preso un coltello e mi ha colpita ripetutamente. Ho perso conoscenza. Quando sono ripresa, ho trovato Davide che mi versava benzina addosso. Gli ho supplicato di fermarsi, ma lui ha appiccato il fuoco. Sono stata bruciata viva, agonizzante. Ho sentito il dolore consumarmi. Davide è fuggito, lasciandomi a terra. È tornato dopo un'ora, solo, senza chiamare aiuto. È stato un inferno. Ho lottato per la mia vita, ma alla fine non ce l'ho fatta. Ora, mentre racconto la mia storia, Davide è stato condannato a 18 anni di carcere, ma ha già ottenuto i primi permessi premio. La giustizia non mi è ancora stata completamente fatta. La mia morte non può essere inutile. Spero che la mia storia possa aiutare altre persone a riconoscere e sfuggire a situazioni di violenza. Nessuno merita di essere trattato così.